Musica 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 Dimensione Musica Musica Salve Musica Ok, ok. Oh. Ma che cazzo? 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 Ok, qua la faccenda si complica Come vedo Ora c'è un scocciatore Però non lo so Eh, però se cazzo è un scocciatore Se cazzo è un scocciatore Oh Oh Eh, non so, io da lì veniva E' un scocciatore E' un scocciatore E' un scocciatore E' un scocciatore Eh, non lo so? E' un scocciatore È un scocciatore Allora... Labyrinth è un po' Ok... Eh... Labyrinth... Eh... Sì... Forse... Forse è lì, eh? Forse è lì... Sì, 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 sì... Nooo... Cazzo... Eh... No, so giusto, so giusto... So giusto... So giusto... Ah, vedi che... Pigli di puttana... No... Ok... Una trappola... Vabbè... Ehm... Uuuuh... Solo di brino... Sto qua... Adesso... Oppure... Ha salvato... Ma non mi sono teletransportato... Nel fatto che l'abbia usato... Cioè... Questa è una cattiveria... Questo gioco è... È tipo infinita... Che è andata di là... Però... Non credo... Allora... È chiuso... È chiusissimo... Però... Cercai di non falli fuori a questo punto... Di... Un po'... Aaaaaaah... Ahahahah... Un po'... Un po'... Vabbè... Vabbè... Basta che non uso lo Stargazer... Come questo... Che continua ad esponare... Che è un infinito... Non prendiamo su... Eh... Sì... Sempre... Sempre nella stessa merda... No... No... Non... aze... Ma che sta succedendo Ah mi ha avvelenato Quasi ci sono Vedo delle scale E questo non c'era Ah che tensione Piccolo problemico Ligerissimo problemico Allora leggerissimo Vai così Tutto po' Fanculo Mori male Ma vedi che Stiamo arrivati a qualcosa Quindi immagino Che faccia Qualcosa al ponte Può essere Che proprio devo andare all'inizio Vabbè Va bene Quindi scendo giù Mori male Non si sa Ah Quale è l'amore aperto Sti cazzi Sto scendendo No Bu Bu Quest Bu Si qua Si 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 No Bu No Non lo so Cioè lui ha fatto vedere Che ha aperto qualcosa Però Però O te lo ricordi O sono cazzi tuoi Per cui Mamma mia Eh vabbè Quindi Se ci arrivo bene Se non ci arrivo male Non devo salire Non devo salire nessuno Stalma Oh Opposite Sì Ma che devo salire? Sì 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 Nooo Ma non ci credo Ma l'affanculo Un qua Infatti che c'è quello Mmm Ma la beppe però Oh Sì 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 Grazie a tutti. E' una miseria che teniamo questa cosa in mano, mamma mia. Sale parecchio? Sì, sì. E' lunghissima sta parte, mamma mia. Ah, quindi sto tornando indietro? Mi sa di sì. Eh, mi sa di sì, mi sa che qua si tornando indietro. Immaginavo, non lo so. Sale, non lo so. No, 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 no. No, no. 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 Non mi ricordo che era così lungo, però. E se ci metto così tanto? Siamo arrivati? Sì, siamo arrivati. Boss. 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 Stargazer, ovviamente. Grande. Questi? Immaginare. Altri. Bambino. Grazie. Chi sei? Con le cavali le sei? E' uscito dal Riser? Il boss finale? Maggio di sì? No? Borca trota. Minchia. L'Axar. Non è il boss. Non è quello finale. Troppo. Magari. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, Simon. Eh, un quadratura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. No! 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 Maaaaaam, che diga? Sì. Cosa faremo? Non lo so. Non posso fare questa decisione. Penso che lei vuole vivere, ma... Cosa faremo? Hai dovuto decidere. Tu, non me. Percibare la vita, potremmo contro le sue, o... O percibare la pazza. E' la tua chiamata. Grazie. Sono stato sbagliate da lunga. Cosa do buono. Cosa dormente. Cosa dolori. Ammi con la fronte. Sampai parte con te. E tu... ...a l'inizio... ...a l'inizio... Questo cappello è un po' ridicolo, comunque... ...verti un calore... ...va bene... Ok, abbiamo... ...un disco... E ora che cacchio abbiamo fatto, eh? Boh... Pezzo che... Boh... Non so se sceglievamo di... Boh... ...dicare... ... Oh... ... 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 no, non è l'ascensore, sembrava però buh, strano vabbè tanto il test geyser qua si va, questa parte, siamo fatti in giro la miseria anche andiamo spatti su video dell'abbazia gioco ancora lungo gioco lunghissimo lunghissimo lungo lungo ma non si è portato più i giochi troppo lunghi sia una mè però in passato cambiano idea meglio bei livelli più corti, piuttosto che il risultamento di brodo ogni volta terribile, vabbè ho fatto ma con un sacco di dischi non credo che riuscivo mai a... per fare il finale perfetto bisogna collezionare tutti i dischi è evidente che possiamo fare delle cose che non abbiamo fatto però vabbè non farò certo tutti e tre i finali questo troppo ahimè quindi non mi aspetto visual e non mi aspetto nulla sicuramente però mi piacerebbe finirlo a questo punto l'avevo addirittura troppato ho detto vabbè io non mi aspetto mai a... ha finito invece vabbè siamo arrivati va? va? non penso che mancano ancora molti altri boss non penso che mancheranno molti altri boss però la morte sempre dietro l'angolo lo vedi? io non so penso che andiamo andati là credo eh eh si davo per scontato che andiamo andiamo eh boh adesso mi spara e mi butta giù lo vedi? eh lo sapevo stana quasi però eh quasi riuscirò a scontare stami giù ok no vai un altro eh infatti eh lo vedi che di qua non vado a sta parte però no 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 ok qua dobbiamo cercare di provare che altro sistema esatto ok ci mettiamo qua porca trota eh che schifo questo sistema però qui ma quando lo prendi eh quando lo prendi ti fai male però questo è bello però questo sistema è così perché cazzo l'ha inventato siete voi i coglioni fatto apposta per cioè non è è in tutti i soldi c'è sta roba vedo? cioè è così no andati i vettiti è finito grazie allora sto qua penso che ok l'unica soluzione è andare lì credo eh non sto sicuro forse no forse è andare lì qua boh si capisce eccolo qua ciao bello no ciao bello sto cazzo no ciao bello sto cazzo ma non ho mai aspettato di incontrivi qui è una cosa triviale tutto è triviale in questa parte del business riempire o non riempire the reason for kidnapping someone or for blocking your path here but if some audacious behavior helps my brother see again that's a different story in all honesty I don't want to fight grazie viatilissima viatilissima for one it's a damned hassle and why should I go out of my way to satisfy an employer who didn't pay me enough it's not too late as a stalker that your father is safe my employer promised not to harm him go on then go to him geppetto is waiting vaffanculo figlio di dobbiamo aprire una maschera vabbè comunque anche se non l'abbiamo uccisa ce l'ha dato lo stesso ok andiamo a prendere la scorciatoia e apriamo la porta oh no capito esa era la scorciatoia it saddens me to see my precious son in a place like this I wanted you to grow up as a good boy and a peaceful world and yet I think all I've taught you is blood and violence this will be the last time I ask I promise Simon has gone completely mad he's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo ok I don't know what kind of world he wants to build perhaps there's no stopping him bene ottimo grazie I trust you my son and I'm ready for any outcome but I don't know what you think of me speak truthfully for my sake was I a trust worthy father no 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 I see I didn't do enough to earn your trust I was not a very good father to you I gave you more loneliness than love that's my burden to bear but remember there is still plenty of time no once all this is over we can become a real family I promise I will give it back to you se se come no happy ending eh si come no certo certo sicuro guarda sicuro ok boh c'è andata una chiave che cazzo una chiave dove dobbiamo usarla non se sa qua credo qua adesso ok ok litmi serratissimi ok magari si è riparato non so dove cazzo andare vado dritto non so buh forse no forse si tubo affiliato no c'è una scala ma non la posso attivare beh immagino che sia una sconciatore che devo attivare dopo eh ok passiamo di qua sperando di non cadere ma che cazzo c'era là c'era là c'era là ah ok eh no vabbè eh ho capito che il salto si si cioè riesco a fare il salto però ogni tanto non va vedete come non va se ne frega attenzione ecco giù forse non è di là no ecco eh totomma mia eh te pareva ecco la cattiva totone minchia ma come mmm eh non c'è modo di evitarlo perché là non si poteva manco saltare vabbè ecco qua lì prima abbiamo detto che ok avrei bloccato più avanti l'ho bloccata mamma mia ecco queste le parti degli cazzi mi aspetto che mi buttano giù no ok va bene allora Sì, sì. grande, meno male grazie come mi piace la parte che si può salvare la versione di Simon dai dai,iamoci da qua eccolo qua bene quanto sei brutto eh, vabbè, questo è Nemesis questo è Resident Evil questo è Nemesis ho capito eh ergo is it not magnificente distilled immortality and a key that opens a world with no lies a key that unlocks crude evolution give thanks there goes a gift from me Simon Marnes who will transgress even God bow down to your God who will be born mamma mia posso chiudere le pc tanto no no